Cari sindaci, è stato un piacere oggi incontrare i vostri colleghi. Il motivo per cui sono qui oggi e domani in altre città siciliane è perché conosco le difficoltà che state attraversando, le difficoltà che ci impongono la prossima settimana di sederci a un tavolo insieme anche alla Regione, come Ministro dell'Economia e delle Finanze, Ministro dell'Interno, come Anci Sicilia e come Regione Siciliana, per capire come darvi una mano. Non è pensabile lasciarvi da soli. Conosciamo i vostri problemi. L'obiettivo è quello di poter mettere a punto una serie di interventi che vi possano aiutare adesso ma in maniera strutturale siano in grado di garantire ai vostri comuni l'erogazione dei servizi essenziali. Un importante incontro della Vice Ministra Laura Castelli, che ringrazio per la sua attenzione e presenza a Palermo, con i sindaci dell'area metropolitana di Palermo. Un incontro che ha servito a manifestare la criticità gestionale e finanziaria dei comuni. Insistiamo nel chiedere una proroga del termine di approvazione dei bilanci. La drammatica condizione di criticità finanziaria e gestionale dei comuni richiede, come ha richiesto, un tavolo specifico, stabile, per evitare che ogni volta ai comuni venga detto da un governo che è la colpa dell'altro governo. Credo che intorno a un tavolo potremmo stabilire chi deve fare che cosa e il modo migliore per dare dignità al ruolo dei comuni ma al tempo stesso garantire servizi ai cittadini siciliani non discriminati rispetto a cittadini di altre regioni.